Fabio Campanaro, hai giurato fedeltà, amore incondizionato dal Gela, con quale augurio affronterete il prossimo campionato di Seredì? Lo affronteremo con grande entusiasmo dopo la vittoriosa annata precedente, lo affronteremo con lo spirito giusto, stiamo lavorando parecchio, stiamo faticando parecchio, ma credo che per la giusta causa, speriamo quest'anno di toglierci tantissime soddisfazioni. Pur vero lo sottolineavamo che il campionato di Seredì non è il campionato di eccellenza, ci sono squadre di un certo blasone che rappresentano un'intera regione e dunque non sarà facile poi riuscire a trovare il giusto equilibrio. Ma guarda, ogni anno il campionato diventa sempre più difficile, però questo ci fa capire che incontreremo squadre più blasonate che hanno una storia come la nostra e sarà anche piacevole giocare, fare un po' di calcio rispetto allo scorso anno, ci divertiremo. Ma cosa vuol dire giocare nel Gela Calcio? Gela Calcio al di là delle categorie, può essere in promozione, in eccellenza, Seredì, ma quando uno indossa questa maglia ci devi dare il massimo perché c'è una città che ti sostiene, che ti viene dietro per tutto l'anno. Quindi al di là che quest'anno siamo in Seredì, dove speriamo che la gente viene più numerosa dello scorso anno, noi dobbiamo cercare di dare il massimo perché abbiamo una storia dietro e dobbiamo cercare di onorarla al massimo. E poi si aspetta il riscontro da parte del tifoso con l'acquisto degli abbonamenti. Quello senza dubbio, infatti invitiamo la gente ad acquistare più abbonamenti possibili perché abbiamo bisogno di loro, perché l'abbiamo visto lo scorso anno nelle ultime partite e ci hanno trascinato in maniera incredibile, e vincendo le partite già prima che l'arbitro fischiasse. Quindi la gente gioca un ruolo molto importante, soprattutto in queste categorie, perché avere un gambo strapieno, 4-5 mila persone, diciamo che ti dà una carica incredibile. Speriamo che la gente quest'anno sia più numerosa dello scorso anno e speriamo di non deluderla.